Lo sdegno di Tranchida, il sindaco di Trapani ha inviato una lettera al ministro Salvini dopo il caso degli 80 trapanesi rimassi bloccati 25 ore all'aeroporto di Palermo. Priorità ai dissalatori, per affrontare la crisi idrica il governo regionale ha messo in atto strategie mirate tra cui la riattivazione dei dissalatori nei principali centri di Porta Empedocle, Gela e Trapani. Due anni di governo Meloni, l'opinione degli italiani al centro della nuova indagine dell'Istituto Demopolis. Buonasera e ben ritrovati al nostro appuntamento serale con l'informazione. Fa ancora discutere il grave disagio che hanno vissuto nel fine settimana scorso, 80 trapanesi che sabato 19 ottobre avrebbero dovuto prendere un volo da Palermo che li avrebbe portati all'Urdo. Vediamo. Un volo più volte posticipato, poi cancellato del tutto. Dopo la segnalazione fatta dai passeggeri, adesso è il sindaco di Trapani che denuncia tutta la situazione. E lo ha fatto con una lettera inviata al presidente della regione Sicilia, Renato Schifani, all'assessore regionale delle infrastrutture e mobilità Alessandro Arricò, al presidente della GESAP, l'ente gestore dell'aeroporto di Palermo, Salvatore Burrafato, al prefetto di Trapani, Daniela Lupo, e al ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini. Tranchida, in pratica, ha deciso di evidenziare a voce alta quello che ha definito un sentimento di vergogna per quanto accaduto a un nutrito gruppo di fedeli passeggeri in attesa del volo per l'Urd. Per il sindaco di Trapani non possono essere e non sono comprensibili i comportamenti che gli 80 passeggeri, tra cui alcuni anziani e un ragazzo disabile, hanno ricevuto. Comportamenti inqualificabili, scrive Tranchida, la cui responsabilità rimane innanzitutto in capo al gestore dell'aeroporto, ma anche e soprattutto in capo a chi è ai vertici delle istituzioni, tenuto a verificare il buon andamento di un servizio pubblico per settore di pubbliche risorse, quale è l'aeroporto palermitano. Per Tranchida, dunque, non c'è nessuna giustificazione a quella che definisce una grave disattenzione che ha portato gli 80 trapanesi e tutti i passeggeri di quel volo a subire delle umiliazioni e a non ricevere informazioni, assistenza e scuse per il disagio subito. Ribadisco, continua il sindaco Giacomo Tranchida, che quanto accaduto è una vergogna per tutti noi che rappresentiamo le comunità e chiedo che ognuno, nell'ambito delle proprie competenze, oltre ad avviare opportune indagini sulle omissioni e irresponsabilità, porga pubbliche scuse ai cittadini così maltrattati e si adoperi a che situazioni similari non abbiano più a verificarsi perché i cittadini che acquistano e pagano un servizio hanno diritto ad usufruire di tale servizio nei modi e nei tempi corretti e hanno diritto a essere rispettati. Ritorniamo a parlare dell'emergenza idrica in Sicilia. Schifani chiede la priorità di installatori di Porto Empedocle, Gela e Trapani. La crisi idrica in Sicilia continua a rappresentare una delle principali sfide per l'isola. Per affrontare l'emergenza e garantire forniture idriche adeguate, il governo regionale ha messo in atto strategie mirate, tra cui la riattivazione dei installatori nei principali centri di Porto Empedocle, Gela e Trapani. Durante un incontro istituzionale a Palazzo d'Orleans, il presidente della regione siciliana, Renato Schifani, ha sottolineato l'urgenza di rimettere in funzione questi impianti, dismessi da oltre dieci anni. L'obiettivo è quello di fornire una soluzione strutturale e a lungo termine alla carenza idrica, aggravata dal cambiamento climatico e da periodi prolungati di siccità. A tal fine sono già stati stanziati 90 milioni di euro all'interno dell'accordo di coesione con il governo nazionale. Erano presenti anche l'assessore regionale all'energia ed i servizi di pubblica utilità Roberto Di Mauro ed il coordinatore della cabina di regia regionale per l'emergenza idrica Salvo Cocina. Per velocizzare l'iter brutocratico ed accelerare i lavori, il commissario nazionale per l'emergenza idrica Nicola Dell'Acqua avvierà un sopralluogo nei siti degli installatori. Verranno installati moduli mobili di installazione per risolvere l'emergenza a breve termine, mentre entro l'estate del 2025 si prevede il completamento dei nuovi impianti definitivi. Due anni di governo Meloni nell'opinione degli italiani e questo l'argomento di indagine dell'Istituto Demopolis. A due anni dal giuramento alquilinale appena il 39% degli italiani promuove con un voto positivo l'operato del governo Meloni. Disegno differente, il giudizio di quasi un cittadino su due che ritiene insufficiente l'azione dell'esecutivo nei suoi primi 24 mesi di vita. L'indagine, condotta dall'Istituto Demopolis, evidenzia una sempre maggiore polarizzazione politica dell'opinione pubblica nella valutazione del governo che risulta promosso dal 96% di chi vota Fratelli d'Italia, dal 75% delle Eghissi e da oltre i due terzi degli elettori di Forza Italia, nel contempo ad apprezzarne il lavoro e meno del 5% di chi vota i principali partiti di opposizione, PD, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi Sinistra. Demopolis ha approfondito la percezione dell'opinione pubblica sui temi centrali dell'attività del governo. Oltre il 50% ne promuove le scelte in politica estera e nei rapporti con l'Europa, ma anche le misure per l'occupazione. Il 48% apprezza il supporto al tessuto produttivo. Forti criticità vengono espresse invece dai cittadini su altri ambiti. Meno di 3 italiane su 10 promuovono l'esecutivo sulla scuola, sulla gestione dell'immigrazione e negli investimenti per la sanità. Appena il 23% valuta positivamente le scelte per la sicurezza urbana. Prescindendo dalle valutazioni su singoli temi, il giudizio sulla Presidente del Consiglio si conferma favorevole. Dopo due anni di governo, il 44% degli italiani dichiara di aver fiducia in Giorgia Meloni un dato superiore di 5 punti rispetto alle valutazioni positive espresse sul governo. Demopolis ha verificato anche la percezione degli elettori sul ruolo svolto in Parlamento dalle forze politiche che non sostengono l'esecutivo. Il 66% ritiene che l'azione complessiva dei partiti di opposizione non sia stata fino ad oggi efficace. Particolarmente significativi nel bilancio su questi primi 24 mesi di governo risultano i trend rilevati dal barometro politico dell'Istituto Demopolis. La fiducia degli italiani in Giorgia Meloni spiega il direttore di Demopolis Pietro Vento resta di fatto stabile al 44%, un punto in meno rispetto ai giorni dell'insediamento. L'apprezzamento del governo risente dei dubbi espressi da ampia parte degli italiani su alcuni versanti del suo operato e risulta in calo di 4 punti, dal 43% al 39% odierno. Ma nello stesso tempo cresce il peso elettorale complessivo dei partiti di centrodestra, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega, che passa dal 44% dell'ottobre di due anni fa al 47% di oggi. Voltiamo pagina. Il dottor Filippo Mangiapane, radiologo, è il nuovo presidente designato dall'Ordine dei Medici della provincia di Trapani. Subentra dal prossimo gennaio al dottor Vito Barraco. Tre giorni di votazioni che hanno visto la partecipazione di oltre un terzo dei medici della provincia di Trapani, malgrado il maltempo che ha fatto sentire la sua forza fra sabato e domenica. Lo spoglio si è concluso in tarda nottata e ha visto prevalere la lista denominata per l'ordine che vede nel dottor Filippo Mangiapane, radiologo, il nuovo presidente designato. Il nuovo consiglio direttivo dell'OMCEO di Trapani sarà composto da tutti i candidati della lista di Mangiapane. Per noi medici sono stati come tre giorni di una grande festa perché le ultime elezioni si erano svolte nel 2020 l'anno della pandemia da Covid e ovviamente non vi era stata la possibilità di aggregarsi così come invece abbiamo avuto la possibilità di fare adesso e quindi erano addirittura sette anni che non ci vedevamo tutti. È stato veramente un momento molto bello. Ovviamente sono tanti i temi che ci troveremo ad affrontare dalla burocrazia estremamente pesante ormai per tutti, noi, in particolare per i medici di medicina generale ma anche per gli ospedalieri, il burnout che purtroppo assilla tutti noi a causa delle carenze di organico e quindi con i turni asfissianti e poi ovviamente anche purtroppo la piaga delle aggressioni sia fisiche che psicologiche che subiamo quotidianamente. Le tematiche più importanti sono ovviamente la riorganizzazione della rete ospedaliera ma penso anche alla messa in campo delle PNRR con una completa rivisitazione dell'assistenza sanitaria e con una maggiore necessità ovviamente di integrazione ospedale-territorio e soprattutto una maggiore sinergia sia tra i medici ospedalieri sia tra i medici del territorio. Sereno il presidente uscente il dottor Vito Barraco che reggerà l'ordine fino a scadenza mandato e cioè fino a dicembre auguro buon lavoro al dottor Mangiapane e a tutto il nuovo consiglio direttivo dell'ordine dei medici della provincia di Trapani afferma Barraco sono certo che verrà garantita la stessa abnegazione che in questi anni è stata assicurata per il buon funzionamento dell'ente lascio un ordine in buone condizioni sia dal punto di vista economico che da quello organizzativo la sanità trapanese sta per affrontare sfide importanti che impongono un'attenzione costante da parte dei medici tutti i quali sono chiamati a fungere anche da sentinella d'allarme soprattutto alla luce delle nuove fondamentali strategie strutturali che dovrebbero ricadere sul territorio provinciale non si placa l'amarezza causata dalle indagini di giovedì scorso sul movimento via dell'onorevole Nino Papania che hanno portato alla sospensione di tre consiglieri comunali del comune di Marsala dopo quasi una settimana dai provvedimenti sui diversi politici del territorio a parlare il sindaco di Marsala Massimo Grillo che ribadisce come lui non abbia nulla a che fare con questa vicenda e in generale con questo modo di intendere la cosa pubblica il movimento via nel 2020 appoggiò la candidatura di Grillo a sindaco di Marsala ma il primo cittadino ha affermato di aver lavorato in questi anni per rendere le situazioni impermeabili a qualsiasi tentativo di favoritismo o clientelismo e la prova di questo è che il comune di Marsala e l'amministrazione non è mai stato in questi anni sospettato di nulla posso affermare con orgoglio e senza timore di smentita dice Grillo di aver sempre vigilato sulla trasparenza e regolarità di lavori e appalti la mia amministrazione è stata e sarà un solido baluardo di legalità e trasparenza così è stato fin dal mio insediamento e così sarà fin quando sarò sindaco Grillo poi ha anticipato che anche questa volta il comune di Marsala si costituirà parte civile come già successo altre volte non è della stessa idea però l'ex sindaco di Marsala Alberto Di Girolamo che si chiede come mai Massimo Grillo non abbia nessun mea culpa da fare visto che il movimento via ha contribuito a eleggerlo e a mantenerlo in vita politicamente quando si vuole amministrare una città nell'interesse di tutti ha detto Di Girolamo lo si fa non accettando in partenza movimenti e candidati molto chiacchierati e amministrando senza fare favori non serve parlare sempre di onestà e onestà bisogna praticarla con i fatti Di Girolamo poi si chiede se il fatto che la maggior parte dei consiglieri sospesi siano proprio del comune di Marsala sia un caso o la dimostrazione che gli amministratori siano stati più permeabili al clientelismo naturalmente se da una parte si ha piena fiducia nella magistratura e negli uomini che hanno fatto le indagini conclude Di Girolamo dall'altra parte tutti quelli coinvolti in questo scandalo si devono ritenere innocenti fino alla conclusione dei tre gradi di giudizio Marsala ha bisogno di cambiare pagina Cambiamo argomento Custonacci Memorie e Futuro è il titolo del progetto del comune di Custonacci vincitore di un bando dell'assessorato regionale delle autonomie locali che si sta tenendo nel territorio della città di Amarmi Nell'ambito dell'iniziativa si sono tenuti diversi momenti coniugando tradizione e modernità tra cui non il raccontano ma anche giochi paesani Pugliamo il mondo per un clima di pace ed ancora pane e olio tra gli olivi e lo spettacolo non esiste futuro senza memoria attività che continueranno anche per tutto il mese di ottobre questo passaggio di memoria questo passaggio di saperi ci dovrebbe portare ad avere una consapevolezza importante di ciò che eravamo di ciò che siamo e soprattutto tentare di individuare una strada un percorso per ciò che dovremmo andare a essere in quale contesto in un contesto ovviamente di una società globale dove le interazioni anche attraverso in multimedia sono quotidiane sono oserei dire quasi al minuto e questo ci deve invece riportare di non disperdere la nostra vera e propria identità piuttosto di fare delle riconsiderazioni su una piattaforma ecco in questo caso dal punto di vista della storicità per poi di farne un'altra di piattaforma dal punto di vista del programma di venire ecco perché abbiamo voluto mettere in evidenza in particolare la città dell'olio da maggio siamo stati inseriti in questo circuito e quindi i nostri ragazzi hanno prima raccolto proprio le olive fisicamente nei luoghi dove vengono appunto dove ci sono queste coltivazioni per poi invece addirittura vedere l'aspetto della molitura e quindi della realizzazione vera e propria dell'olio il progetto è in collaborazione con Farm Cultural Park rinomata realtà nel campo della rigenerazione urbana e culturale grazie al comune di Custonaci stiamo lavorando in questo progetto Custonaci Memorie e Futuro che vede Farm come dire protagonista di alcune attività Farm è un centro culturale indipendente che si occupa di arte creatività e di rigenerazione urbana e stiamo cercando di portare gli elementi che ci contraddistinguono all'interno di questo progetto innanzitutto facendo stiamo facendo delle attività con le scuole e con le associazioni del territorio per capire effettivamente qual è il genius locidi di questo bellissimo contesto di questo paese per come dire portare a valore i talenti ci spostiamo a Pantelleria dove si è disputata la regata di San Fortunato evento inserito nei festeggiamenti del Santo Patrono sotto un cielo grigio e in condizioni meteomarine al limite si è disputata sulla perla nera la regata di San Fortunato organizzata dal circolo velico Isola di Pantelleria ha visto la partecipazione di sei lance Andromeda Baba Claire de Miró Fico d'India Linda e Vento d'Estate il capo di regata è stato un classico bastone con cancello di partenza in località Renella e Boa di Bolina di fronte alla Cava di Morsia le condizioni meteomarine sono state molto impegnative con vento da sud-sud-est di circa 15 nodi e raffiche anche di 20 al limite per le storiche imbarcazioni gli equipaggi hanno quindi optato per un armo medio-piccolo preannunciando già così le scelte tattiche da mettere in campo scelte che hanno condizionato la classifica finale la partenza è stata molto avvincente con tutte le lance ravvicinate per garantirsi la prima posizione la maggior parte ha preferito procedere con il classico bordo a terra per guadagnare spazio sugli altri solo Linda si è staccata dal gruppo puntando verso il largo scelta tattica che l'ha premiata facendola arrivare seconda alla Boa di Bolina posizione mantenuta fino alla fine molto coinvolgente è stata la sfida fra Attilio e Vito Ferreri padre e figlio al timone rispettivamente di vento d'estate e fico d'India con grande tenacia e una consolidata e pluridecennale esperienza Attilio ha messo tutto se stesso per aggiudicarsi la prima posizione ma l'età ha giocato un ruolo importante come lui stesso ha messo a fine regata facendogli comunque conquistare il podio ma in terza posizione la classifica finale ha visto quindi primeggiare fico d'India con il collaudatissimo equipaggio composto da Vito Ferreri Salvatore Patanè e Lorenzo Silvia in seconda posizione Linda terza vento d'estate termina qui il nostro telegiornale adesso la linea Vallo Sport io vi ringrazio per averci seguito vi auguro una buona serata Allora Grazie a tutti